E' quello che c'hanno gli altri. Prova a farmi uno vicino vicino per ora per vedere le funzioni. E' quello che c'hanno gli altri. Capite, ma è un po' più difficile dell'altro. Sì, lo capisco. E' quello che c'hanno gli altri. Come deputati dell'ESCOP esprimiamo una vocazione autonomistica che è per me il ragione di identità e appartenenza politica e parlamentare. Signor Presidente, oggi nel suo discorso a Lettoli voler garantire e tutelare con la massima intensità l'automia Statuto Speciale delle minoranze linguistiche. Abbiamo scordato parole quasi identiche nelle sue dichiarazioni al dato della fiducia al suo primo governo, ma in realtà, nei scorsi mesi, abbiamo avuto anche esperienze e posizioni negative. In primo luogo, da chi ha avuto un ruolo nelle maggioranze precedenti ad oggi che si propone per una nuova prova di governo. Per questa ragione, riteniamo, si deve essere prudenti. La nostra prudenza è un atto di responsabilità nel confronto del nostro territorio e di trasparenza politica. Le peculiare incidenti dell'automia Statuto Speciale delle scuole ciò non significa che la nostra posizione sia pregiudiziale nel confronto del suo governo. La nostra intenzione è quella di esprimere una posizione che è nel contempo moderata, responsabile ed aperta al confronto, costruttivo sui contenuti e provvedimenti futuri. Grazie, buon lavoro. Si astiene la componente su di una possibilità delle migliorazioni turistiche e con il contempo di ritrovisto noi con l'Italia U6. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, noi con l'Italia U6 votrò appunto la voce. State facendo un esperimento al buio e l'azzardo non è quello di cui hanno bisogno di capire. Ma al metto delle questioni linguistiche il metodo è sempre lo stesso. Quello è l'abbaranto. Un punto dei miei è uno dei vuoi. Metodo che ha già creato tanto il nuovo Presidente governo. Lo dico chiaro. Siamo molto preoccupati dell'alto tasso di stradalismo e assistenzialismo che contraviste con il suo esecutivo. Non abbiamo bisogno di più Stato e di più burocrazia, ma di più società e di più sussidiarietà, di più protagonismo di imprese, associazioni, famiglie e di ruolo più attorno del legge di tutte. E la parola sussidiarietà, signor Presidente del Consiglio, nel suo discorso non l'ho mai sentita, l'avevo pronunciata invece all'atto del suo insegnamento del Presidente governo. Ho sentito spesso invece l'aggettivo pubblico. Acqua pubblica, sanità pubblico, lei non ne ha parlato. Meno tasse sul lavoro e imprese significa più competitività, più occupazione, salari più altri. Altro che salario minimo e reddito di cittadinanza. Noi però non facciamo il tipo contro. Anche chi, perché, impaga le conseguenze dei fallimenti dell'azione del governo, sono sempre e solo gli italiani. Anzi, speriamo che ritrovarsi fianco a fianco con persone con cui fino a ieri ci si risultava e con cui oggi si governa possa avere almeno questo risultato. Testimoniare che anche in politica l'altro non è un medico da battere, ma un avversario che ha a cuore come te il bene del Paese con soluzioni diverse alle tue. Hai dire...